Mercoledì, al nord perturbazione in arrivo. Giornata con un peggioramento del tempo e precipitazioni via via più diffuse, specie al mattino, su gran parte delle regioni. Venti da sud. Giovedì, ciclone con perturbazione. Giornata contraddistinta da un graduale e via via più diffuso peggioramento del tempo su tutte le regioni. Attese precipitazioni anche forti. Al centro, tempo a tratti instabile. Giornata con con l'arrivo di rovesci sulla Toscana settentrionale, cielo a tratti molto nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite. Giovedì, perturbazione in azione. La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni intense su gran parte delle regioni, più deboli su Abruzzo e Molise. Calo termico diffuso. Al sud, nonostante la pressione sia in calo, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno al mattino, poi via via poco nuvoloso. Giovedì, una perturbazione interessa le regioni. Giornata con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni più probabili sulla campagna, altrove saranno deboli o addirittura assenti. Giovedì. 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 Grazie a tutti